Ma tu la granola la compri o la fai in casa? Perché ho trovato negli anni questa soluzione diciamo di prepararla a casa per due motivi. Uno perché posso mettere gli ingredienti che mi piacciono senza andare a cercare granole apposta per me per esempio senza uvetta che a me non piace e poi evitare di comprare quelle troppo zuccherate che a me non piacciono quindi dosare anche lo zucchero. Questo è un barattolo ne faremo di due tipi a cui praticamente aggiungeremo due ingredienti alla fine. Ottime per la colazione, ottime per il porridge, vi metto qui la ricetta della scorsa settimana con lo yogurt e anche come snack serale. Per fare una bellissima buonissima granola utilizziamo dell'avena. Questi sono 250 grammi, olio di cocco e burro di arachidi che faccio un po' sciogliere in forno. Potreste anche usare il miele ma io non metterò zucchero a questa preparazione. Come frutta secca voglio aggiungere le noci che adoro, che sminuzzo un pochino. Potreste anche aggiungere gli anacardi per esempio. La cosa bella di preparare la granola in casa è che si può personalizzare secondo i propri gusti. Spesso quelle comprate hanno magari degli ingredienti che non amiamo come esempio l'uvetta che non amo e quindi adesso prepariamo un po' il nostro... adesso bisogna bagnare l'avena con l'olio con il burro di arachidi, poi aggiungiamo alla fine le noci, la frutta secca e poi mettiamo già in forno. Intanto scaldiamo il forno per la granola. Trovate come sempre la ricetta in descrizione. Nel caso aggiungiamo un po' di olio di cocco se vediamo che allora io utilizzo le mani perché ho aggiunto ancora un po' di olio di cocco, inizio già a bagnarsi. Adesso mettiamo in una teglia. E voilà! Guardate che meraviglia! Adesso facciamo chiaramente asciugare un pochino. E voilà la nostra granola. L'ho divisa in due perché adesso aggiungo qui qualcosina e qui un'altra. Questo vediamo insieme. Ne farò una almaccia aggiungendo un po' di polvere e invece l'altra l'arricchisco con del cioccolato fondente che taglierò un po' così. Uno. E la due. Aggiungo un cucchiaino di tè matcha. Ne utilizzo uno che è veramente spettacolare. Di Everything Matcha. Vi metto il link qui di sotto. E adesso mescoliamo anche questo. Il tocco verde che io amo in cucina.